Fiume Talnerd Time Trap, una produzione Netflix a basso costo, un po' bella un po' no. Sigla! Allora, caro signor Akikazi, questa sera vi parliamo di Time Trap, un film a basso budget di Netflix che parla di viaggi nel tempo. Allora, vi diciamo che da qui in poi sono spoiler, perché se vi raccontiamo la trama purtroppo vi facciamo spoiler. E se non me la raccontiamo il video dura due secondi e vi diciamo, sì il film è bello ma ha dei psi e dei ma. Esatto, perché il fatto che vi abbiamo detto che questo film parla di viaggi nel tempo vi abbiamo già detto troppo. Beh, diciamo che le sinossi di Netflix sono già leggermente spoilerose, quindi ve lo dicono già nelle quattro righe. Esatto, quindi sappiate che da qui in poi ci saranno spoiler. Allora, di che cosa parla questo film? Che vicende narra? Allora, c'è un professore di archeologia dell'università del paesello X del centro degli Stati Uniti, tipo quelli che fanno il Barbera del Kentucky, che lui è ossessionato dal fatto che da piccoli i suoi genitori sono usciti per un'escursione e non sono mai più tornati. Allora lui con degli studenti decide di andare a cercarli nell'ultimo posto in cui sono stati avvistati. Trova il vecchio furgoncino hippie Volkswagen anni 60, anni 70 dei genitori e decide di cercarli perché lì vicino trova una grotta. I suoi studenti sono rimasti a casa, li ha lasciati a casa e lui si inoltre in questa grotta. Cosa c'è in questa grotta? Lui vede suo padre fermo immobile. Giusto? Sì. Vede suo padre fermo immobile in questa grotta, decide di avvicinarsi e ad un certo punto trova una specie di cambiamento di densità nell'aria. Che cosa succede? Questa grotta ha una bolla di tempo che scorre in maniera differente. I suoi studenti, giorno dopo, due giorni dopo, preoccupati che lui non torna, decidono di andare a cercarli. Chiamano una loro amica che ha la macchina, che però lei si porta dietro la sorella, che però poi vuole portare dietro l'amichetto. Casino boia della miseria. Vanno dentro questa caverna da un'altra entrata. Non trovano il professore, ma anche loro finiscono in questa bolla di tempo che scorre diversamente. Tra l'altro loro vanno dalla stessa ingresso, probabilmente hanno usato il genitore del professore, perché trovano il cavo collegato al paraurtio, al parafango della manca amionette. Scorrendo in maniera diversa il tempo, e molto, ma molto, ma molto più lentamente in questa bolla, la corda che hanno usato per scendere ad un certo punto si deteriora, perché sulla superficie terrestre il pianeta il tempo scorre molto più velocemente, e traccadendo, facendosi male, eccetera, rimangono intrappolati. Da un buco che è sfiata verso l'alto, vedono una strana striscia che fa uno zigzag in questo modo, e col passare dei minuti, le ore, scoprono che quello è il sole che fa le varie rivoluzioni. In alto per l'inverno, in basso per l'estate. Quindi loro, rimanendo una, due ore all'interno di quella grotta, scoprono che poi sulla superficie terrestre sono passati in realtà circa 4-5 mila anni. Eh già! Trovano uomini della preistoria, ad un certo punto scende un essere molto più alto degli esseri umani normali, che gli fa vedere un pezzo di telegiornale in cui vengono spiegati che c'è stata una grande guerra nucleare sul pianeta Terra, il pianeta Terra sta morendo, hanno creato un portale che teletrasporta le navicelle su Marte, probabilmente fatto da Elon Musk. Probabile. E quindi il fatto che abbiano vissuto 2-3 mila anni su Marte, con la gravità inferiore rispetto al pianeta Terra, sono molto più alti, più lunghi, più fragili, tutte queste venate qua. Finché poi, ad un certo punto, finisce che tutti vengono salvati da un'entità aliena che è arrivata sul pianeta Terra e sta cercando di renderlo vivibile di nuovo, diciamo. Perché all'inizio ho detto un po' bello un po' no? Eh... Perché è un filmettino, sì, a basso budget, che viene girato tutto totalmente in una grotta con sei attori. Esatto. E anche gli esterni sono in mezzo al deserto del niente. Sì, cioè noi Fiume Metal Nerd avremmo potuto girare lo stesso film con qualcuno che con Adobe After Effects ci metteva qualche effettino, no? Sì, sì, sì. E eccetera. Qual è il punto? Poi lascio parlare il signor Akikaze. Qual è il punto? È che questo film non ha né capo né coda. Ma non che non è tutto sballato. Non ha proprio l'inizio e non ha proprio la fine. Perché comincia con loro che cercano sta grotta e finisce con loro che vengono salvati, senza dare spiegazioni sull'inizio e senza dare spiegazioni sul finale. Poi ovviamente ci sono anche delle cose un po' che ti fanno stortare il naso. Però è bello perché l'idea di questa bolla di tempo variato all'interno della grotta, tempo distorto, come lo chiamerebbe Sabak, giustamente, questo tempo distorto all'interno di questa bolla nella grotta... Molto è distorto perché più ti avvicini al centro e più cambia... E più passa velocemente, più rallenta e più passa velocemente al di fuori. Quindi hanno livelli diversi. Per quello che ci sono i cavernicoli, perché loro vivono molto più verso il centro e poi a salire. E i cavernicoli sono stati lì... Ma sì, saranno lì da 20 minuti. No, vabbè, magari qualche giorno. Qualche giorno per loro, ma decine e decine di migliaia di anni per quello che riguarda la Terra. E questo, cioè l'idea è bella, però è il classico. Se andavamo a scuola, la riunione con i professori per i nostri figli avrebbero detto... È bravo ma non si applica. È bravo ma non si applica. Esattamente così. È una produzione particolare perché appunto l'idea è molto interessante e sfiziosa. È un modo diverso di vedere il viaggio nel tempo, dove in realtà non ci si muove fisicamente nel tempo. Ma è il tempo che ti si muove attorno, se vogliamo. Semplicemente perché c'è questa bolla particolare, questo evento che è rappresentato come la fonte dell'eterna giovinezza. Proprio perché all'interno c'è una fonte, se ci arrivi non invecchi. Ma perché per te non passa il tempo. Il problema di questo film, oltre a quello che ha detto Fuso, che è vero, inizia con un inizio che è un po' buttato lì. Che un pochino lo puoi ricostruire col film, ma poca roba. E un finale che si può immaginare come va avanti, ma in realtà... È che non ha un tono molto chiaro dal mio punto di vista. Nel senso, la prima parte, va beh, ti incuriosisce, no? Il professore che entra nella grotta, serve proprio per stuzzicarti. Quando l'allegro gruppetto di ragazzi parte, e lo citano anche, sembra di vedere un pezzo dei Goonies, no? Nel senso che sono comunque ragazzi molto giovani, di cui due praticamente preadolescenti, che vanno a fare sta scampagnata a trovare il professore, ma si troviamo, no? Tra battute scansonate, il ragazzino che ci prova con quella più grande, le fa le battute. È una roba, no, è un classico film da ragazzini anni 80, se vogliamo, no? L'ha detto lui, eh? Io... E fellì, vabbè, ok. Ma poi, toni, cambiano un pochino. Ti fermo un attimo. Voglio fare con voi una scommessa. Da questo video in poi, tenteremo di mettere dentro in ogni video, a prescindere dall'argomento che trattiamo, un riferimento agli anni 80. Che praticamente potremmo farlo retroattivo, perché secondo me non ce ne sono tanti senza. Comunque, cambia tono, perché poi c'è la parte, mentre va avanti, dove acquista delle vaghe tonalità horror, ma molto vaghe. E c'è la parte invece molto creepy, dove il ragazzino muore. Sì. Che è molto cruda, anche se non si vede niente, però è comunque cruda e molto triste. E poi, in una sequenza di cose drammatiche, di gente che muore, e che sposta il tono del film, fino al finale, molto action nel finale, ma che poi diventa tutto tra luce e lini e vino. Cioè, finisce dove, boh, non sono tutti vivi, non è morto nessuno, lo fa un culo, no? Sì, perché... Ti ha tolto anche quel... Perché nel finale, il buco dal cui loro guardano il sole che viaggia a velocità stratosferica, ad un certo punto avviene attorno a quel buco, si trovano a vedere una costruzione con una cosa come se fosse acqua. E loro vengono salvati da quest'entità, presumibilmente aliene, perché ad un certo punto entra una mano che è tipo con le dita lunghe così, ed entrano queste sorta di tentacoli meccanici neri, che sembrano essere immuni a questa bolla temporale. salvano tutti, ad un certo punto gli ultimi che vengono tratti in salvo, compreso il professore, i suoi genitori e la sua sorellina, sono gli ultimi che ovviamente si svegliano, si svegliano in delle bacinelle rotonde, piene d'acqua. Che è l'acqua della fonte che loro hanno preso, perché l'unico che era venuto giù all'inizio aveva preso un campione. Esatto. E che ha questo potere, lo fanno vedere di... Esatto, in quest'acqua loro si svegliano, arrivano i tre protagonisti che erano stati tirati in salvo per primo, perché erano più vicini al buco, che gli dicono, guardano gli altri, gli dicono, ah, vi siete svegliati, abbiamo un sacco di cose da raccontarvi. E ci hanno fuori anche i genitori, la sorellina, e tutta la gente che era molto prima. Sì, abbiamo un sacco di cose da raccontarvi, titoli di coda. Sì, praticamente sì. E quindi, cioè, questo finale... Esatto, è come se voi guardate un nostro video e vi tagliamo, non so, uno dei nostri più corti, tipo 40 minuti. Esatto. Come se guardate il nostro video e vi tagliamo i primi dieci minuti e gli ultimi dieci. Sì. Cioè, sembra che... Manche qualcosa. Sì, bravo, esatto. Sembra che è incompleto. Però, tutto sommato, per trarre le conclusioni finali e dargli uno straccio di ipotetico voto, io dico che è un film che per una serata dove non si sa cosa fare, dove la noia incombe, vi volete stappare una birra e aprire un sacchetto di patatine, questo film è tranquillamente guardabile, anche perché non ha tempi morti, la storia scorre liscia dal punto A al punto B e non ci sono troppe cose che vi tengono col cervello perennemente acceso a pensare, a ragionare cosa sta succedendo. Cioè, è un film che può essere guardato in totale tranquillità e libertà mentale. Quindi, secondo me, se volete guardarlo è su Netflix, Time Trap. Poi non dura neanche... Dura un'ora e 27 minuti, quindi, cioè, non è che buttate via un sacco di tempo se poi alla fine vi fa schifo. Quindi, per concludere, bella l'idea, ambientazione, vabbè, è una grotta, gli effetti speciali sono 4 in croce che, ripeto, con Adobe After Effects possono essere fatti e quindi, per me, si becca un 6,5. Cioè, non vado oltre, perché sì, si becca la sufficienza per l'idea, però poi anche tutte le cose varie che stridono durante il film, cioè, più di quello non gli posso dare. È un film tranquillissimo, 6,5, sì, 6,5, dai. Io più o meno mi allino, gli do 6 e, come dicevo, anche a un messaggio, a lui, secondo me, sarebbe una buona base per una serie televisiva, sarebbe stato più interessante, magari sviluppato, magari un ambiente un pochino più grande. Bravo, dopo dico una cosa. Avrebbe dato quel modo di conoscere i personaggi, magari personaggi di epoche diverse che si incontrano. Cioè, c'era un... Perché l'idea, secondo me, è molto buona, però, purtroppo, in un film è già difficile svilupparla. in un film così, fatto così, un pochino meno. Però il 6 lo becca, appunto, perché l'ho visto come ha detto Fuso, popcorn da microonde e birretta. Me lo sono goduto tranquillamente, mi sono fatto la mia serata tranquilla. E quindi, 6, e niente. Insomma, se vi capita, guardate. Se non avete niente da fare, se non avete niente di meglio da guardare, guardate tranquillamente. Quello che ha detto Marco è una cosa molto interessante. Il fatto che, fatto a serie TV, sarebbe stato fighissimo. Ma sì. perché ho notato che tanti film a medio-basso budget di Netflix starebbero molto, molto meglio come serie televisive. Perché, appunto, come si svolgono i fatti e come vengono narrati, sembrano serie televisive condensate. Eh sì. Quindi, caro Netflix, invece di fare un film, fatti una serie televisiva, 6, 7, 8 puntate. Sì, anche una miniserie. 6 puntate secche, da un'ora, un'ora e mezza. Sarebbe stata, sarebbe stata una gran figata. E dopo questa notizia bomba, io e il signor Akikaze, vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo video, e tanta birra e prosperità. Ciao, ciao. Ciao.